Difficile immaginare ad oggi un futuro per l'Aquila Calcio. Con un progetto tecnico che avrebbe meritato la riconferma, nessun segnale concreto è arrivato e i giocatori e lo staff con 5 stipendi arretrati vanno a giocarsi domenica a Matelica la semifinale secca dei play-off, una trasferta che pagheranno, come tante volte è accaduto quest'anno, i tifosi. Poco da dire, di gruppi veramente interessati, di segnali concreti, non ne sono arrivati. Come sapete a seguire per la proprietà le trattative è l'avvocato Tiberio Gulluni, uomo di fiducia del socio Massimo Mancini. Come sapete c'è stato l'interessamento di un gruppo imprenditoriale capeggiato da Alessandro Nuccilli, non nuovo a trattative e interessi nel mondo del calcio, alcune avventure completamente negative e questo gruppo dai tifosi è già ostacolato in partenza, viste le premesse. Vedremo, ma sono alte le probabilità che la cosa non decollerà. Intanto però l'assessore Alessandro Piccidini ha incontrato l'avvocato Gulluni, per quanto riguarda la pista di Candeloro, presidente del Francavilla Calcio, anche qui di concreto, a parte qualche contatto nulla, e di piste locali neanche a parlarne per ora, seppure qualcuno in passato aveva manifestato qualche belletà. Anche qui si vedrà. Magari con l'acqua alla gola, come sempre accade in casa dell'Aquila Calcio, ma non dovrebbe accadere, forse qualcosa potrà smuoversi, ma i tempi sono quello che sono e le speranze sono ridotte all'umicino davvero. L'indifferenza regna sovrana, il 31 maggio si avvicina. In quella data, infatti, per chi non lo sapesse, bisogna presentare delle attestazioni, quelle per esempio che testimoniano il pagamento ai tesserati. In parola povere, vanno pagati quei calciatori o staff che hanno fatto vertenza, e ce ne sono. Ma non solo, perché andrebbe presentato anche a segno bonifico per coprire debiti sportivi esistenti al 30 giugno. Qualcuno tirerà fuori soldi, visto l'andazzo che si è avuto finora, è alquanto difficile crederlo, anche se la speranza è sempre l'ultima a morire. Così l'Aquila Calcio è destinata inevitabilmente al fallimento, e qualcuno dovrà assumersi le sue responsabilità. Un patrimonio della città, che forse poteva essere salvato prima, che rischia ora di scomparire nel silenzio più assoluto, senza che nessuno muova una paglia. L'Aquila, se ci sei, batti un colpo.